Esiste un vaccino contro le allergie? Sì, e si chiama immunoterapia specifica. Lo specialista può dare avvio a un vaccino che tanto prima si inizia e meglio è. Quando viene effettuato in maniera appropriata, la terapia dura almeno tre anni e se ci sono sintomi si ricorre anche a terapia allergologica. L'immunoterapia specifica può modulare la risposta allergica, ma non può eliminarla. La terapia va fatta più o meno per tutta la vita, poi ci sono soggetti che possono stare bene anche per 15 o 20 anni, anche se a livello di bronchi ci sono sempre dei problemi.